extra tutti i colori dell'attualità con claudio micalizio bentornati bentornati a destra nell'economia della condivisione la sharing economy noi italiani abbiamo imparato già da qualche anno quale possa essere la comodità di muoversi nelle nostre città utilizzando dei mezzi che non sono di nostra proprietà e che sono di fatto in qualche modo interscambiabili magari si usa un treno per arrivare in stazione poi la metropolitana poi un tratto di strada lo si percorre in sella a una bici elettrica oppure anche a un monopattino un trend che anche nella capitale sta nonostante molto scetticismo prendendo piede ne parliamo con silvia corsi diciamo la verità chi vive a roma sa quanto siano utili bici e motociclette per muoversi in città ma sa anche quanti rischi ci siano per l'incolumità tra san pietrini buche nell'asfalto grandi come crateri il traffico caotico e parcheggi selvaggi è anche per questo motivo che qualche anno fa quando anche nella capitale arrivarono i primi servizi di noleggio di mezzi a due ruote a cominciare dai monopattini in pochi avrebbero scommesso sul loro successo e invece la sharing mobility cioè la possibilità di muoversi usando mezzi in condivisione con altri soltanto quando se ne ha bisogno sta prendendo piede anche nella città eterna il 2023 è stato un anno record secondo i dati sono almeno un milione i romani che hanno utilizzato questa nuova frontiera del trasporto urbano e ne sono soddisfatti se è vero che l'86 per cento degli utenti ha riconosciuto il contributo di questi mezzi nel semplificare la vita in città facilitando gli spostamenti e consentendo di evitare il traffico per raggiungere agevolmente le destinazioni preferite questo per chi deve spostarsi in città per lavoro per studio ma molti dicono di aver apprezzato monopattini e biciclette elettriche nelle ore di relax magari per andare a rivedere i propri luoghi del cuore o addirittura i monumenti come turisti qualsiasi un successo che allinea roma ad altre grandi capitali europee dove la sharing economy si è diffusa anche più velocemente e dove forse traffico e disagi sono anche meno caotici allora cerchiamo di capire come si è arrivati a questo risultato con Enrico Stefano che è un manager responsabile delle relazioni istituzionali di Lime che è una delle società che opera proprio con un servizio di condivisione di mezzi a due ruote intanto buonasera e benvenuto a Estra buonasera buonasera a lei agli ascoltatori e grazie ancora per l'invito noi ci siamo un po stupiti e l'avrà forse anche capito dalla copertina che abbiamo visto insieme nel vedere come anche in una città complessa come Roma per tutti i motivi che abbiamo descritto abbia preso piede e sia diventato quasi di moda questa forma alternativa di mobilità quanto era scontato questo risultato per voi? no sicuramente sicuramente non lo era e appunto forse un pochino a sorpresa ma fino a un certo punto i cittadini hanno sorpreso le istituzioni e i gestori come noi di questo di questo tipo di servizi nostro è un servizio sempre mi piace il termine di moda inteso magari come qualcosa che ormai è abituale per le persone raggiungere magari la fermata della metropolitana piuttosto che la destinazione finale al lavoro all'università con un mezzo con un mezzo condiviso i nostri utenti apprezzano molto questa flessibilità che consentiamo di colmare soprattutto il il tragitto abitudinario con un mezzo che è sempre disponibile che è sempre accessibile e anche a delle tariffe sempre più sempre più convenienti quindi sicuramente la città la città sta rispondendo bene sta rispondendo sempre di più e un dato che ci tengo a sottolineare poi che sono sempre di più i cittadini residenti locali che utilizzano i nostri servizi se all'inizio forse sono stati più utilizzati questi servizi o comunque c'era la credenza che fosse un divertimento per turisti piuttosto che giovanissimi in realtà non è così abbiamo delle percentuali sempre più significative di spostamenti nelle ore di punta soprattutto con le biciclette e di utilizzi da parte di cittadini per spostamenti sistematici questa è una grossa soddisfazione che ovviamente non ci fa adagiare ma la sfida di questo business è quella di migliorare costantemente di migliorare sempre di più la qualità dei posizionamenti la qualità dei servizi abbiamo già degli standard molto elevati di disponibilità dei mezzi i nostri mezzi sono sempre disponibili perché devono essere sempre noleggiabili quindi devono offrire un servizio e non essere un disagio un intralcio per chi non ne soffriisce quindi abbiamo degli standard molto elevati ma siamo portati a migliorare sempre di più perché da un lato cresce l'interesse e la domanda dall'altro noi dobbiamo essere sempre più bravi a intercettarla e a servirla quando serve e dove serve ecco tra l'altro lei faceva riferimento anche a un discorso di intralcio io mi ricordo quando la sharing mobility sbarcò anche in Italia a Roma ma anche a Milano che all'inizio le cronache che facevano i giornalisti erano molto attenti a segnalare i disagi no e anche diciamo la verità episodi di inciviltà che vedevano poi le aziende come le vostre un po' in difficoltà pensiamo a chi abbandonava fuori dagli stalli i monopattini le biciclette e chi addirittura li vandalizzava ecco da questo punto di vista il mercato italiano era un mercato che sembrava più ostico di altri proprio per questi problemi di ordine pubblico la situazione poi è evoluta in meglio mi par di capire assolutamente assolutamente sì mi consenta giusto un appunto veramente 15 secondi talvolta il nostro settore è stato forse più nell'occhio del ciclone di altri quindi ha sempre fatto un pochino più notizia il monopattino parcheggiato male piuttosto che altri mezzi parcheggiati male ma questo insomma non ci interessa sicuramente gli investimenti da parte degli operatori e della società che rappresento di line sono stati importantissimi in sicurezza e in conformità le regole di parcheggio delle città quindi oggi la nostra tecnologia ci consente di individuare dei punti precisi dove è obbligatorio o è incentivato lasciare i nostri mezzi piuttosto aree dove non è possibile parcheggiare nei parchi pubblici nella maggior parte dei parchi pubblici non è possibile terminare una corsa altre zone dove non è proprio possibile entrare con i nostri mezzi quindi il monopattino o la bicicletta si spengono ma poi se posso il segreto per evitare disagi che sono sempre di meno per i motivi che stavo rappresentando è quello di far utilizzare molto questi servizi perché più il monopattino o la bicicletta vengono utilizzati meno tempo sono fermi e quindi meno possono ci sono potenziali rischi di disagi per gli altri su questo noi siamo molto bravi perché come dicevo prima investiamo costantemente in corretto posizionamento dei mezzi piuttosto che in personale che costantemente pattuglia le nostre strade e effetto a piccole manutenzioni o piccoli spostamenti dei nostri mezzi e dall'altro lato sicuramente anche il fatto che la città creda in questa modalità di spostamento consente di aumentare sempre di più l'utilizzo noi sicuramente siamo stati all'altezza della sfida siamo stati bravi ma anche la città di roma è una città che crede in questi servizi che li sta promuovendo e li sta sostenendo e questo diciamo così non sempre è scontato banale ecco lei tra l'altro lo possiamo ricordare i nostri ascoltatori è stato anche presidente della commissione mobilità credo nella giunta raggi e giusto quindi movimento 5 stelle e noi sappiamo come i temi della sharing economy e dell'ecosostenibilità in generale fossero al centro di questo di questo mandato ecco il rapporto con la città di roma non le chiedo un giudizio politico eh ma proprio eh di compatibilità tra una città che ha le caratteristiche ovviamente di un museo a cielo aperto con anche tutte le inefficienze che purtroppo da cronisti raccontiamo ogni giorno e questa nuova frontiera della mobilità su due ruote vuol dire grande comodità e questo lo sappiamo ma ovviamente ci si espone anche ai rischi come si riesce a tenere tutto in equilibrio ma io penso e appunto come dicevo lo riteniamo noi ma lo ritiene anche la città che la micromobilità sia una grande opportunità proprio per le caratteristiche della città di roma che è una città che comunque è sicuramente molto piacevole da vivere a piedi in monopattino in bicicletta con il trasporto pubblico piuttosto che in automobile proprio per le peculiarità e l'inestimabile patrimonio artistico e culturale di cui siamo eh che deteniamo quindi sicuramente la città si presta a questi servizi c'è sicuramente un uno spostamento eh da un lato per gli investimenti in mobilità sostenibile che sta facendo la città che sta portando avanti pensiamo anche ai fondi del PNRR dall'altro operatori come Lime che credono in questa modalità di spostamento e quindi sono sempre molto attenti ad intercettare eh la domanda e i cambiamenti eh che ci sono nelle città e poi me lo consenta anche i nostri utenti cittadini si accorgono che molto spesso è molto più efficiente eh veloce economico e magari anche divertente raggiungere la propria destinazione con un spostamento di venti minuti in bicicletta piuttosto che essere fermi nel traffico o dover cercare o dover cercare parcheggio quindi un combinato di sposto di questi fattori eh lo posso basta anche vedere la città nel loro di punta si vedono sempre più biciclette piuttosto che monopattini che siano essi eh condivisi o o di proprietà il percorso è sicuramente ancora lungo penso che la città sia assolutamente sulla buona strada perché poi le differenze in positivo si notano eh e poi è difficile eh diventa difficile tornare indietro e poi c'è sicuramente anche un ultimo aspetto che mi piace ricordare aziende come la nostra sono comunque aziende che si sta hanno l'obiettivo di radicarsi nel vero senso della parola nelle città eh che servono e fare investimenti portare del valore assumere delle persone noi abbiamo diamo lavoro a tanti anche a tanti operai a tanti meccanici facciamo corsi di formazione abbiamo delle collaborazioni con delle scuole con dei centri di formazione professionale eh quindi c'è anche eh un'economia eh nuova non solo dal punto di vista ambientale della sostenibilità che per carità già sostituire un viaggio in automobile con un viaggio in bicicletta è un risultato positivo per la collettività ma anche un'economia a 360 gradi che è sostenibile che può dare veramente tante opportunità di di lavoro alle alle persone di crescita. Eh dicevamo nella copertina che chi usa le due ruote possono essere le bici elettriche o i monopattini eh lo fa per lavoro molto spesso per studio per le commissioni ma molti lo fanno anche nel tempo libero per andare a vedere magari luoghi i monumenti che diventano più accessibili eh se si ha un mezzo smart facile da guidare rispetto all'auto. Ecco c'è anche un profilo dell'utente eh chi è il il romano che che usa questi questi mezzi? Ha ha un'età media di circa 35 anni su per giù e comunque abbiamo una percentuale importante almeno uno su quattro che supera che supera i 50 anni quindi appunto anche quello che dicevo all'inizio eh questa credenza che erano solamente giovanissimi eh in realtà in realtà sta cambiando sta cambiando è cambiato molto rapidamente. Sulle modalità di utilizzo come dicevo abbiamo soprattutto per le biciclette ormai un grafico eh giornaliero che è quello classico degli spostamenti dei pendolari quindi una punta eh intorno alla mattina intorno alle nove e una punta eh il pomeriggio. Eh leggermente diverso il monopattino che magari ancora un pochino è eh il mezzo preferito per lo spostamento più di diciamo così eh di piacere ma anche lì notiamo una crescita eh da questo punto di vista. Eh gli spostamenti avvengono eh c'è possiamo dividere diciamo una metà sono gli spostamenti di lavoro barra università eh c'è un'altra fetta importante circa un quarto che sono gli spostamenti che avvengono per delle commissioni per degli acquisti un altro eh impatto positivo di questi mezzi è che eh favoriscono sicuramente il commercio al dettaglio e il commercio locale perché ce lo dicono i nostri utenti nei sondaggi che costantemente facciamo ma anche ovviamente un'impressione empirica da molto facile è molto eh più semplice e accessibile girare i negozi di vicinato con una bicicletta noi abbiamo un cestino molto capiente davanti che è molto eh che è molto apprezzato da chi ci usa proprio per questo motivo e poi c'è un altro quarto che sicuramente è l'utilizzo più per piacere per svago eh per vedere monumenti piuttosto che per insomma apprezzare la nostra città quindi questa è un pochino la divisione dei nostri viaggi poi può cambiare leggermente per tipologia di mezzo tra bicicletta e monopattino per fascia dell'anno ma gli ordini di grandezza sono queste. Io la ringrazio per i minuti che ci hai dedicato questa sera. Grazie a voi. Colgo lo spunto che lei offriva pochi minuti fa quando diceva dell'impatto e dell'approccio etico e sociale che voi avete sui territori dove sbarcate con i vostri servizi mi permetto di suggerire visto che il tema della sicurezza stradale è un problema della città di Roma ed è un tema che la nostra emittente sta particolarmente a cuore e siccome chi va su due ruote rientra nelle cosiddette categorie fragili io vi suggerisco modestamente di fare una campagna di sensibilizzazione e di educazione perché è anche vero che talvolta chi va in bici o sul monopattino forse è convinto di essere al di sopra del codice della strada la prenda come un suggerimento positivo e non è polemica questa ma potrebbe essere utile dare anche un segnale importante un contributo alla sicurezza della città. Abbiamo abbiamo attività di questo di questo tipo sia attività abbiamo del personale dedicato che rivede le foto di fine corsa che vengono fatte obbligatoriamente dai nostri utenti e inviamo prima segnalazioni di avvisi e poi anche delle sanzioni a chi parcheggia male i nostri mezzi facciamo delle campagne costantemente eh di comunicazione via mail o via app per ricordare le regole del codice della strada e le regole in particolare della città ma sicuramente l'attività di questo tipo non è mai non è mai troppo poca quindi eh la intensificheremo. Bene grazie grazie davvero per i minuti che ci ha dedicato Enrico Stefano manager di Lime vi auguriamo ovviamente un buon lavoro e una buona serata grazie. Grazie grazie ancora. E noi ci fermiamo il tempo a nostra disposizione ampiamente terminato linea agli altri programmi della rete noi torniamo domani alla solita ora arrivederci. Extra tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio.